ciao a tutti questo è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda tutte le persone che mi scriveranno delle mail private per un consulto privato ad ogni consulto su richiesta e ripeto su richiesta se voi mi scriverete il vostro giorno di nascita e volete avere delle informazioni in più sul vostro giorno di nascita per quanto riguarda l'assonanza con i tarocchi un consiglio un pensiero del giorno insieme a questo libro io riuscirò vedete qua c'è il giorno e il mese riuscirò a darvi delle informazioni in più sulla vostra persona questo è un qualcosa in più che voglio regalare a tutte le persone che mi chiederanno un consulto privato e come dicevo prima mi diranno specificatamente che vogliono sapere qualcosa in più sul loro giorno di nascita bene questo era un piccolo video di presentazione e adesso vi lascio al video del giorno ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video io sono morgana e questo è il mio canale di cartomanzia ricordo che i miei video sono dei video interattivi e oggi siamo proprio qua per rispondere a un video richiesta che mi è stato richiesto da tante persone io l'ho con varie domande mi è stato richiesto da tante persone io ho cercato di racchiudere tutte le richieste in una sola domanda perché si è allontanato questa è la risposta questa è la domanda che faremo oggi alle carte in questo interattivo perché si è allontanato che intenzioni ha con me allora ricordo che i miei video sono dei video interattivi sono non sono dei video personalizzati non sono delle letture personali chi volesse approfondire qualche argomento farmi una domanda specifica può scrivermi un'email ricordo che i miei video sono dei video diciamo in perpetuo nel senso non essendoci data per il video questi sono video che voi potrete vedere fra un mese fra due mesi fra tre mesi fra una settimana sono sempre validi in base alla situazione che avete per le mani in quel momento adesso io andrò a preparare le tre varianti e andremo a rispondere a questa domanda ecco qui per voi pronte le tre varianti se volete potete mettere in pausa il video qualche istante per scegliere la variante che più intuitivamente vi attira che più sentite vostra magari il colore della pietra è uno dei vostri colori preferiti ecco che adesso andremo a leggere la prima variante che risponde a questo video alla domanda perché si è allontanato che intenzioni a con me benissimo andiamo a leggere la variante per chi ha scelto la pietra rossa allora fondamentalmente questa variante ci dice che la persona a cui abbiamo rivolto la domanda del video si è allontanata da noi non perché non prova un sentimento per noi ma fondamentalmente si è allontanata perché ha dei problemi lavorativi e questa è una situazione un po di tutti in questo periodo ha dei problemi lavorativi e perciò si è un pochettino allontanata da voi magari semplicemente con il pensiero perché magari fisicamente accanto a voi sicuramente fisicamente accanto a voi ma con il pensiero con i sentimenti si è un po allontanata perché ha dei problemi lavorativi a dei problemi economici che cosa significa questo significa che noi nella situazione in cui viviamo con questa persona dobbiamo cercare un segno un segno che fondamentalmente ci tranquillizzi un segno che ci dia la forza perché di fondo noi abbiamo è uscita la carta del quadrifoglio che sta a significare che la nostra situazione con questa persona è una situazione fortunata è una situazione che va bene di fondo è una relazione diciamo importante una relazione che ci dà nuove speranze diciamo che è stata la svolta decisiva della nostra della nostra vita rappresenta la persona che abbiamo accanto rappresenta il marito o la moglie del resto un'amica importante un amico importante tutto quello che riguarda la relazione che sia affettiva che sia amorosa che sia familiare che sia di amicizia questo cosa significa che la persona rivolge a noi questo senso di protezione questo senso di protezione che perché ci vuole far sentire sicuri ci vuole far sentire la sua forza la sua energia la sua vitalità la sua resistenza e la sua intelligenza e vuole fondamentalmente consolidare questa parte lavorativa della sua vita la vuole consolidare vuole che consolidare scusate vuole che tutto vada per il verso giusto perché di fondo vuole prendersi cura di voi e perciò diciamo che a oggi la persona è un po' lontana da voi ma semplicemente col pensiero perché magari fondamentalmente pensa di più alla questione diciamo lavorativa che in questo momento è un pochino in bilico per tutti però fondamentalmente e sentimentalmente affettivamente dipende dalla persona che avete accanto è molto legata a voi su questo non dovete avere paura dovete essere sicuri e poi dovete cercare nei piccoli gesti di vita quotidiana di vedere il segno che vi possa tranquillizzare non so vi porta una tazzina di caffè vi prepara un dolce si prende cura di voi questo diciamo sono i segni che voi dovete cercare per tranquillizzarvi perché al di là di questa preoccupazione lavorativa non c'è nient'altro andiamo a vedere la seconda variante per chi ha scelto la pietra azzurra allora qui abbiamo una situazione a cui dobbiamo fare attenzione dobbiamo fare attenzione perché perché qua ci dice che questo è il momento sbagliato per arrenderci dobbiamo continuare a muoverci nelle direzioni delle nostre speranze dei sogni e dei progetti siamo sulla strada giusta ed è molto importante mantenere le posizioni in cui crediamo qui abbiamo una situazione di una stabilità di coppia una stabilità che ci porta la carta della casa la casa è una carta positiva che ci porta stabilità protezione equilibrio intimità promette stabilità e sicurezza ed è una situazione durevole e non una situazione diciamo sfuggente potrebbe anche trattarsi di un investimento fortunato per la nostra azienda familiare diciamo che dopo questa crisi andrà a rifiorire in modo molto proficuo e diciamo che l'avverarsi di questa situazione potrebbe essere verso la fine dell'anno poi abbiamo un'altra carta positiva che sta a significare possibilità di successo possibilità di successo che riguardante questa situazione affettiva diciamo che fondamentalmente voi non avete problemi con la persona a cui avete a cui avete rivolto la domanda del video però io vi posso dire che se voi non vi calmate un pochino che se voi diciamo non mantenete calma la situazione che c'è nel senso perché qua mi parla che avete una situazione economica un pochettino diciamo deboluce chiamiamola così non dico che avete problemi economici però di soldini ne avete pochi cosa significa che voi fondamentalmente e strutturalmente avete una situazione affettiva ben basata ben strutturata che però potrebbe arrivare a una rottura se voi non cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno nel senso non dovete assillare la persona a cui avete rivolto a cui state rivolgendo il video perché si è allontanato che intenzioni ha con me ecco non lo dovete assillare sul campo sentimentale perché penso che questa persona già abbia abbastanza pensieri per il lato economico tutte queste varianti si riferiscono al lato economico della situazione perché fondamentalmente in questo momento siamo vicini alle persone a cui vogliamo bene perché siamo fra virgolette costrette a stare vicino alle persone a cui vogliamo bene perciò di fondo voi problemi sentimentali in questo momento non ne avete però potrebbero insorgere questi problemi sentimentali se voi non vi date una calmata e non smettete di assillare la persona che avete accanto con questi problemi che lo sentite distante che la sentite distante che la sentite distratta perché in questo momento la sua unica distrazione è diciamo racchiusa nella diciamo indisponibilità economica che c'è in questo in questo periodo perciò se voi diciamo mantenete la calma e cercate di tirare su il molare alla persona che avete accanto non succede niente però se voi cominciate ad assillarla con la situazione di allontanamento di distrazione arriverete a una rottura andiamo a leggere la terza e ultima variante per chi ha scelto la pietra verde allora qui in questa variante dobbiamo cercare un pochino di mettere a freno la nostra fantasia in che senso qui abbiamo delle carte che ci dicono che prima di parlare dobbiamo pensarci bene nel senso dobbiamo informarci meglio con amici e parenti dobbiamo essere sicuri di quello che stiamo dicendo perché se noi accusiamo la persona che abbiamo accanto se noi facciamo delle discussioni e dei litigi infondati infondati significa semplicemente legati a un nostro pensiero a una nostra fantasia a un qualcosa che magari abbiamo capito male perché qua abbiamo delle discussioni per magari delle parole dette e capite male e fra intese qui abbiamo una sorta di allontanamento allontanamento che riguarda già una coppia riguarda già un qualcosa di di stabile diciamo il legame che si viene a creare con questa persona che sia un legame diciamo in base alla vostra situazione che avete per le mani a livello di non so di coppie di sentimenti a chi avete rivolto voi la domanda del video perché si allontana dovete cercare di essere sicuri prima di parlare dovete essere sicuri perché non potete accusare le persone in base a un pensiero che avete a un qualcosa che avete capito in un certo modo perché qua ci dice che noi dobbiamo informarci meglio chiedere ad amici chiedere ai suoi amici chiedere ad amici in comune se il nostro pensiero se quello che ci balena per la mente può avere una base di verità senza partire in quarta e fare delle accuse a delle persone che magari sono ignare nella situazione di cui voi state parlando ignare nel senso che cadono dalle nuvole perché sono semplicemente delle fantasie che vi siete creati voi per una per una parola o un gesto capito in un certo modo che in una situazione di nervosismo che stiamo vivendo tutti in questo periodo diciamo che uno spillo può diventare un macigno ecco questo voglio dire cercate prima di informarvi di avere un po' di tolleranza di avere un po' di pazienza informatevi perché ricordate che quando aprite bocca dovete avere sempre ragione questo che cosa vuol dire vuol dire che qualsiasi vostro pensiero di allontanamento di intenzione nei vostri confronti verrà sicuramente soddisfatto se voi vi informerete meglio sia in bene sia in male perché se voi vi informate meglio prima di aprire bocca e di fare delle discussioni sicuramente avrete una soddisfazione in base al rapporto che c'è sia in bene o in male perché potreste avere la conferma di quello che voi pensate oppure potreste avere diciamo una non conferma di ciò che voi pensate e perciò se avete la conferma allora potete partire in quarta e diciamo fare una discussione che poi vi porterà a una soddisfazione nel legame mentre se magari non avete la conferma non avete fatto una strage con la persona che magari ci tenete avete semplicemente voi capito male e le cose rimarranno per come sono bene siamo arrivati anche alla fine di questo video se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su iscrivetevi se ancora non siete iscritti per tutti coloro che avessero delle domande o se volessero approfondire qualche argomento mi possono scrivere un'email io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video